Loretta, dobbiamo promuovere il tuo nuovo libro sulla città perduta. Non puoi vegetare nella vasca da bagno a bere sardone con ghiaccio. Il modello da copertina più sexy del mondo, Dash McBale! Sai di non essere Dash, giusto? È un personaggio che ho inventato io. Dash! Oh, dio. Ho apprezzato il suo libro sulla città perduta e credo che lei possa aiutarmi a trovare il suo tesoro. Loretta, è scomparsa. Io la salverò. Voglio che mi consideri più di un modello da copertina. Cosa ci fai qui? Devo salvarti. Siamo nell'avventura di Lavumareda, sola. La giungla, quelli come noi, se li mangiano. Che roba è! Ti prego! Oh no, non farei quel verso. Sembra che mi stanno succhiando il sedere come un succo di frutta. Loretta Sage, ti tirerò fuori di qui. Perché sei così affascinante? Mio padre era un attore. Mio padre era un attore.